Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono DGN99 e si parla ancora una volta di calciomercato nel Napoli infatti dopo Traoré e Mazzocchi il Napoli ha ufficializzato un altro acquisto, sto parlando di Cyril Ngonje attaccante belga del Verona che adesso è arrivato a Napoli per la cifra di circa 20 milioni Ngonje è un classe 2000, attualmente ha 23 anni e ha disputato un'ottima prima parte di stagione nel Verona avendo realizzato ben 6 gol, che nel Verona non sono affatto male adesso si trasferisce al Napoli, appunto come detto per 20 milioni e diciamo che Ngonje è un attaccante molto duttile perché può giocare sia come esterno sinistro che come esterno destro ma anche come trequartista, infatti nel Verona copre il ruolo di trequartista o seconda punta quindi è un calciatore molto duttile che può ricoprire molti ruoli e diciamo che personalmente a me Ngonje piace, però ha qualche difetto diciamo che il difetto principale di Ngonje è la discontinuità cioè nel senso che Ngonje alterna grandi partite a grandi errori per esempio ha fatto un gol straordinario rovesciata contro Udinese però per esempio proprio contro il Napoli sbagliò un gol clamoroso all'ultimo minuto che avrebbe fatto vincere il Verona quindi diciamo che Ngonje è un giocatore molto talentuoso, molto promettente che però deve ancora migliorare tanto e secondo me il Napoli è una squadra in cui può benissimo farlo diciamo che almeno fino a giugno Ngonje non sarà titolare perché sarà alla riserva di Polidano infatti a Napoli dovrebbe coprire il ruolo di esterno destro oppure di esterno sinistro come riserva Ricca Varaschela ma in ogni caso Ngonje non sarà titolare almeno questa seconda parte di stagione poi l'anno prossimo, vista la probabile partenza di Polidano potrebbe fare il titolare a destra diciamo che nonostante il fatto che non sia titolare secondo me Ngonje rimane comunque un giocatore molto interessante perché Ngonje è un giocatore che può fare la differenza anche a partita in corso lui ma anche Traore sono due giocatori che non saranno dei titolari ma che subentrati dalla panchina possono spaccare veramente in due partite perché Ngonje è un giocatore molto molto forte, molto tecnico, molto rapido quindi è un calciatore che potenzialmente è devastante quindi grande acquisto del Napoli adesso però secondo me servirebbe anche un centrocampista difensivo e un difensore centrale perché se Mazzarri vuole passare al 3-4-3 a mio parere servirebbe un difensore centrale in più e anche un centrocampista difensivo in più come riserva fatemi sapere la vostra ragazzi su Ngonje ci vediamo in un prossimo video